Buongiorno ragazzi, questo è il video di oggi, non c'è portante ragazzi ho fatto la live prima e niente, l'ho detto che Mobizen live stream era in fase di sviluppo quindi era tutto buggato, quindi non farò live per questo per un po' di tempo e niente, quindi sarà un po' di inattività del canale perché non so se farò tanti video e niente, forse farò camera fee live, forse lo faccio perché è live, non lo so e niente, ciao ragazzi e c'era al prossimo video